Il principe Icamen non è un fratello adorato. Cosa posso fare per te? E falco d'oro talabad can padisce. Come procedono le sfide? Hai ottenuto abbastanza marchi? Il loro ricordo e il loro sacrificio siano un esempio per i cacciatori. E ora? Mi hai portato tutti soli in una volta. Sarai invitiata da parecchi cacciatori. Non che ci voglia molto. Sono lieta di offrirti una fionda esplosiva, un lanciacorde e un arco da guerra. Congratulazioni! Sei una maestra cacciatrice. Ti auguro buona fortuna. Grazie mille! Grazie a tutti.